Dobbiamo essere un polo alternativo che fa gli interessi della città e siamo contro quel trasversalismo della politica che guarda agli interessi personali. Si presenta così Giovanni Ardita, candidato sindaco della coalizione intesa per la Dispoli. Al suo fianco il Giego di Santo Fabiano, il Grande Sud, il Partito Liberale, insieme ad altre componenti cittadine. Non basta solo Ardita per portare avanti questo progetto innovativo e di cambiamento. Abbiamo bisogno di più soggetti, anche l'esperienza del 2007 per me è dimenticata, dove ringrazio tanti giovani che mi hanno votato e tanti amici, sono sempre ricoscente però, bisogna cambiare marcia e pensare di fare una squadra di persone competenti dentro la macchina amministrativa. Il piano regolatore non deve essere imposto alla città. Andavano fatti dei passaggi che il piano regolatore doveva essere illustrato a tutte le realtà sociali, a tutti i comitati di quartieri, a tutti i tecnici. Dopo con il supporto di tutta la città si doveva decidere di far partire questo piano regolatore. Questo principio io lo ho condiviso, poi entrare nella polemica che, come si è fatto inserire altri, che questo piano regolatore sia stato fatto a pioggia su alcuni politici, è evidente, aprendo questa planimetria… Pensi che siano più avversari in questa competizione i tuoi ex amici del PDL o quelli del centrosinistra? Buona domanda. Io devo dire che ho riscontrato che il loro rappresentante principale in questi ultimi giorni ha dichiarato che la vita è una risorsa importante per il PDL. Io voglio uscire pure da queste questioni personali di pensare gli avversari politici di qua di là, anche perché, a dire la verità, ho creduto a questa cosa quando mi hanno applaudito il primo giorno che sono stato letto in aula e poi a distanza di un mese l'ho trovato tutti insieme. Allora non faccio distinzione. La persona per bene e il bravo politico sta a destra e a sinistra, ripeto questo, e il ladro sta a destra e a sinistra. Non faccio distinzione tra le due coalizioni perché sono state delle coalizioni che hanno condiviso questo percorso. Mi dispiace di una cosa, ve lo devo dire che quello che è stato il mio medico di famiglia per 25 anni, adesso tutti lo stanno scaricando e io ho usato quella frase dell'arancia che viene gettata nell'umido, mentre gli altri vogliono fare i furbi di scappare via e hanno invece amministrato insieme a lui. Io questo non lo ritengo leale perché se io stavo insieme a Pagliotta ci avrei iniziato il primo giorno e sarei caduto con lui fino al quinto anno. Invece vedere questi che sono opportunisti della politica e che stanno cercando con alcuni accordi di passare da una parte all'altra, la barca sta affondando, ma è la colpa della cattiva gestione. Io questo lo voglio dire, non è solo del sindaco Pagliotta, che in alcune circostanze, alcune mie emozioni le ha anche approvate. Purtroppo ha scelto degli alleati scelerati, senza guardare il colore, che lo hanno portato alla devina e alla cattiva gestione dell'amministrazione e purtroppo ha pagato la città e questo è il conto che pagherà il sindaco uscente. Lo hanno lasciato solo, però io mi aspetto da lui un atto di coraggio che dica ufficialmente a tutta la stampa tutti quelli che sono stati con lui, perché non è, anche se è stato un mio avversario in questi cinque anni, io non ritengo corretto dare la responsabilità tutta a Pagliotta, mentre qualcun altro che nei propri assessorati si è comportato male, ha fatto i cavoli propri, oggi paga l'immagine del sindaco, ma i responsabili anche sono altri. Questi punti di forza del programma politico? La trasparenza e la legalità nell'amministrazione per far sperare ai giovani che possa esserci una meritiocrazia. Un'aggregazione più aperta al centro ai moderati e anche attenta al quarto polo e a tutte quelle forze di centro che possono condividere questo nuovo progetto di cambiamento per la città. Immagine simbolo della campagna elettorale di Giovanni Ardita, soprannominato il guerriero, sarà quella di Rocky, il pugile interpretato da Sylvester Stallone. Immancabile regalo e quanto io da boxe, è un sogno. Voglio concludere con questa frase, che non deve essere solo mia, non inglese, ma I have a dream, tutti noi dobbiamo avere questo sogno che è impossibile. L'immagine, come ha detto un giornale locale, è stata scelta da un cittadino che ha scritto una lettera, vedendo in me il Rocky che deve fare questo combattimento, questa battaglia per cambiare la città.